In questa puntata di Spill the Tea with me, Cristiano Cervigni, Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati, è fatto tutto per hype, dove sta la verità? Le nostre telecamere hanno scoperto molte cose. Giulia Salemi ci dà dentro contro gli attori di Mare Fuori e poi si scusa. Andrea Davante è tornato nuovamente single, ma anche San Marino si sta preparando per l'Eurovision. E' eliminata la sorella di Elettra Lamborghini, ma tra i finalisti ci sarebbe Pamela Prati. Questo e molto di più oggi in Spill the Tea with me, Cristiano Cervigni. Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati in una nuovissima puntata di Spill the Tea with me, Cristiano Cervigni. Sto ridendo perché ho fatto un intro super ganzo e mi ha fatto ridere molto. Se vi è piaciuto lasciate like a questo video che magari da questa puntata in poi ci potrà sempre essere il riassuntino iniziale. Fatto sta che mettetevi comodi perché oggi sono in compagnia della mia Rebel, ci vorrà un po' di taurina, diciamo così, per riuscire a terminare questo video. Torniamo a parlare di gossip anche oggi perché di cose da dire ultimamente ce ne sono tante, tante, tante. Devo dire che questo 2023 è iniziato nel migliore dei modi, eh, per quanto riguarda il gossip, lo spettaculesse. E noi, vecchio sciabattone di periferia, adoriamo il tutto. Tra le altre cose sto provando a stare senza piercing perché mi è venuto un po' annoia. Fatemi sapere se vi piaccio di più così oppure se faccio schifo uguale. Adoro. Fatto sta, momento ASMR, 3, 2, 1. E a proposito di ASMR, ragazzi, io domenica vi ho pubblicato un intero vlog in ASMR, andatelo a vedere perché potrebbe esserci aperta per me una nuova carriera. 3, 2, 1, sorso iniziale. Ah, e direi che possiamo iniziare a parlare. Prendiamo il mio iPadino perché nella scorsa puntata di Spilling the Tea abbiamo parlato per tanti minuti della crisi che ci sarebbe tra i Ferragnez dopo Sanremo. Abbiamo già chiarito le motivazioni. Se ve le state perse, ovviamente, vi lascio il link diretto del video qua sotto nell'info box così potete andarlo a recuperare e poi tornare qua e così sapete di cosa parliamo. Ma in questi giorni, in queste ore, ovviamente l'hype è alle stelle, ovviamente l'attenzione mediatica dei due è alle stelle. Tutti stanno guardando, tutti stanno scrutando l'orizzonte per cercare di scoprire la verità della coppia. Si sono lasciati veramente? Si stanno lasciando veramente? Sono semplicemente in crisi e quindi stanno cercando un po' di riappacificarsi lontano dai riflettori? Oggi probabilmente andremo a rispondere a tutte queste domande perché, ragazze e ragazzi, non solo noi di Spilling the Tea parliamo di loro. Ma qualche giorno fa un giornalista ha, diciamo, lanciato una bombetta. Io vi avevo detto, nello scorso episodio, che avevano rimandato l'uscita della seconda stagione dei Ferragniets, il reality della loro vita, no? Che abbiamo già amato lo scorso anno. Fatto sta che le telecamere di The Ferragniets erano presenti anche a Sanremo. Ma questo giornalista, qualche giorno fa, ha dichiarato che i due, cioè Chiara Ferragni e Fedez, avrebbero, subito dopo la lite di Sanremo, chiesto all'entourage della serie una settimana di pausa dalle riprese. E questo avrebbe fatto slittare la seconda stagione che era prevista per marzo a settembre. Ora, io mi domando, se è un reality sulla vostra vita, non dovete smettere di registrare ora solo perché magari c'è un momento di crisi. Prendete esempio da Keeping Up With The Kardashians, che delle liti ci hanno fatto un impero. Cioè, volete fare un reality che sia reality? Non è giusto, secondo me, registrare solo determinate cose. Questo è semplicemente il mio parere. Però, d'altra parte, capisco anche loro che magari in questo momento probabilmente staranno soffrendo e staranno anche pensando al loro futuro, a cosa fare e come combattere questa crisi nera. E quindi, magari, le telecamere sono l'ultima cosa che vorresti vedere. Quindi, probabilmente, data questa notizia, questa crisi è veramente nell'aria. Anche perché il 14 febbraio, cioè per San Valentino, i due sono stati avvistati insieme in questa foto. Ok? E dopo l'uscita di questa foto, praticamente, sono uscite tantissime cose. C'è chi dice che quel edificio è un edificio dove c'è uno studio di un avvocato divorzista. E quindi è iniziata a circolare la voce che i due, proprio per San Valentino, si siano trovati con i rispettivi avvocati lì, in questo studio, per preparare tutte le carte per il divorzio. Cioè, invece, che dice che lì dentro, in quell'edificio, in realtà, non c'era nulla di tutto ciò, fatto sta che tutti noi siamo rimasti col dubbio fino a quando Vanity Fair è arrivato in nostro soccorso perché ha pubblicato un articolo, proprio Vanity Fair, in cui ci dice la verità su questa foto e su chi ci sarebbe dentro questo edificio. Infatti, Viola Francini, su Vanity Fair, scrive Entrambi arrivati a bordo del loro van nero dai vetri oscurati, hanno suonato il campanello e atteso di entrare. Vanity Fair ha scoperto l'indirizzo in cui Fedez e Chiara sono stati avvistati l'ultima volta insieme, dopo giorni di silenzio social di lui. Il palazzo si trova nel cuore di Milano e all'interno ci sono un centro di cura psichiatrica e psicologica, un gruppo di medici associati, oltre agli inquilini privati. Quindi nessun avvocato, al contrario di alcuni rumor, circolati nelle ultime ore. È possibile, anche se non vi è alcuna certezza, che siano andate ad una seduta di terapia di coppia. Oh, e mi sembra anche la cosa più giusta, secondo me, e più veritiera questa. Perché, ora va bene tutto, però, andata ad una bocata divorzista, dopo quello che è successo a Sanremo, mi sembra anche un po' troppo tragico, un po' too much, a meno che questa non sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Però, secondo me, quello che scrive Vanity Fair è molto più veritiero, ok? Quindi ce li vedo loro che vanno a fare, appunto, una terapia di coppia per cercare un po' di parlare dei loro problemi e per cercare anche un po' di sistemare la situazione. Ma, ragazzi and ragazzi, giusto appunto ieri, e per voi sarà ieri l'altro, spero, Fedez, dopo tantissime ore, tantissime ore davvero di silenzio stampa in Instagram Stories, perché non ha pubblicato veramente spia di nulla, ha pubblicato questa storia, che vi metto qui, e era tutta nera, e semplicemente c'è scritto tu, la mia calamità, io, la tua calamità, che è un pezzo di una canzone, insomma. Fatto sta che questa storia è durata cinque minuti e poi è stata cancellata. E, facendo così, ovviamente tutti se ne sono resi conto e ovviamente tutti hanno un inchiato ad indagare e a parlare. Io vi dico la mia. Ci sono molte possibilità su questa rimozione di questa storia, perché? Se è vero che loro due hanno litigato e che non stanno cavalcando l'onda dell'hype, quella storia non aveva nulla di male, quindi perché cancellarla dopo cinque minuti? Nel senso, tua moglie può essere arrabbiata quanto ti pare, ma io, nel mio Instagram Stories, cerco un po' di scrivere quello che voglio. Se è stata cancellata, un uccellino mi ha messo in testa che probabilmente è stata cancellata per volere di Chiara, perché questa storia rovinava tutto il rumor che si sta creando in queste ore, in queste settimane, in questi giorni. Ora, io ovviamente penso sempre bene, non è vero che penso sempre male delle persone, però voglio ben sperare che non sia vero questa cosa. Io voglio ben sperare che i due non facciano finta di essere in crisi e quindi di aver architettato qualsiasi mossa sui social per far sì che il loro engagement aumenti sempre di più e quindi che facciano finta. Io penso che una crisi comunque ci sia veramente e penso che Fedez, al contrario di lei, perché lei pubblica tante storie con la famiglia, ma non con Fedez, Fedez io penso che voglia un attimino redimersi, nel senso voglia pubblicare il meno possibile, perché evidentemente secondo me si è reso conto che alcune cose fatte durante la settimana di Sanremo sono state un po' too much, no? Tipo quando Rosa Chemical ha simulato un atto pempere, pempemposo con lui. E quindi io penso che lui voglia mantenere un attimo un basso profilo per un po'. Voglio pensare quello, non voglio pensare che in realtà loro geni del male facciano tutto per un tornaconto. Però ricordiamoci che, ok, mega milioni su Instagram, sui tutti social, ma sono delle persone umane anche loro con i propri sentimenti, con le proprie fragilità e quindi io voglio credere che sia in buona fede, ok? Ci voglio credere anche se sono stati avvistati i due insieme, ragazzi. Vi lascio questo video. Questo video è super nuovo, è di questo weekend, è uscito su TikTok e appunto nella didascalia c'è scritto non è vero niente della loro crisi, oggi si trovavano a Villa Crespi insieme. Vorranno solo privacy o tutto è un montaggio? Ora, erano al ristorante di Canavacciuolo, ok? Io continuo a dirvi. Voglio sperare che non sia tutta una fake news o un fake montaggio e tutto quanto, però vi posso dire una osa, ma anche le persone in crisi possono continuare a uscire insieme. Nel senso, sappiamo che non si sono lasciati al momento e che nessuno ha fatto le valigie, nessuno dorme in hotel, quindi tutte e due abitano insieme ai figli nella stessa casa. Quindi è normale che se c'è un periodo dove litighiamo, comunque è successo qualcosa che ci ha un po' allontanato, se ne parla in giro, no? Però è anche normale che comunque stiamo sempre insieme, comunque abbiamo una famiglia, comunque andiamo a mangiare insieme, no? Perché non ci siamo lasciati, stiamo sempre insieme. Ora, questo video vuol dire tanto, ma vuol dire anche po' nel senso è un video di pochissimi secondi, non è che si capisce loro cosa dicono, si vede su per giù le espressioni sia di lui sia di lei, mi sembravano anche abbastanza contenti di essere lì, ma ci mancherebbe perché sei da Canavacciuolo, fai anche il muso lungo. Però questo non significa che allora non è vero nulla, che hanno litigato e quindi sono felici e contenti. Probabilmente, boh, può darsi che stiano riprovando a sistemare le cose o che Fedez stia riprovando a riconquistarla, portandola lì. Non lo sappiamo e non lo sapremo fino a quando uno dei due fa una lunga storia, una lunga diretta dicendo è successo questo, questo e questo, adesso è tutto passato. Quando succederà sta roba ci saranno sicuramente delle critiche, ovviamente, però ne sapremo di più. Io voglio ben sperare che non aspettino l'uscita della serie De Ferragnets semplicemente per creare hype intorno e per avere più successo per quella serie. Anche perché ci sarebbe da aspettare tantissimi mesi se è vero che è stata slittata la registrazione. Quindi, ora è vero che l'attenzione tutta su di loro ma le persone perdono facilmente l'attenzione quindi passeranno altri giorni e poi nessuno parlerà più di questa cosa. Pensa aspettare fino a settembre per risolvere la situazione. I don't know, ragazzi. Fatto sta che comunque oltre a tutte queste robe molti di voi hanno notato che Chiara Ferragni nelle sue ultime Instagram stories sono i suoi ultimi selfie è apparsa senza alcun anello. Nemmeno la fede nemmeno anelli di fidanzamento non ha nulla e quindi questo ha dato adito a molte persone di pensare che questa crisi c'è e che sia anche veramente seria. Insomma, non ci si capisce più nulla. Loro con questo silenzio imbarazzante fanno aumentare questi rumors da una parte e c'è questa crisi dall'altra vengono avvistati insieme dall'altra ancora fanno storie che poi cancellano poi di lì poi di là. Volete parlare? Volete di qualcosa? È anche vero che ognuno ha i propri tempi. Quando sarà il momento secondo me in My Opinion loro faranno sapere quello che dobbiamo sapere. Non vi preoccupate. Adesso cambiamo argomento ma prima lasciatevi un commento qua sotto e ditemi cosa ne pensate voi di tutta questa storia. se siete saturi come la maggior parte degli italiani o se comunque questi gossip ci riempiano le domeniche pomeriggio. Parliamo un attimo adesso dell'Eurovision. Come ben sapete Mark Mangoni rappresenterà l'Eurovision cioè l'Italia all'Eurovision di quest'anno a maggio. Non si sa se con due vite canzone che ha vinto con Sanremo oppure con un'altra. Probabilmente rimarrà due vite perché tutti i siti dell'Eurovision hanno scritto due vite però boh un lo so. Ma quello che non sapete o meglio quello che sapete dall'anno scorso ma non sapete quello di quest'anno è che anche San Marino sta preparando il suo cantante da portare a questa Kermess e ragazzi ragazzi ci sono già state le eliminatorie eliminatorie che sono state passate da alcune persone da alcuni cantanti italiani e adesso vi faccio la lista delle persone che sono andate in finale per rappresentare San Marino all'Eurovision è tornato per il secondo anno consecutivo Francesco Monte ok perché non contento della perdita dell'anno scorso c'è tornato e comunque rie in finale poi c'è Massimo Di Cataldo che è in coppia con Andrea Gresti poi c'è Roy Pace poi c'è Gli Eiffel 65 e io adorerei e poi ragazzi ragazzi è passata alla finale Pamela Prati adoro adoro Pamela Prati che rappresenterà San Marino io adorerei il fatto sta che poi ci sono anche dei volti di amici tipo Deborah Iurato Manuel Aspidi Moreno ci sono le Deva insomma c'è un po' di persone quindi la gara si fa molto combattuta ma io Pamela credo in te mi raccomando metticela tutta perché io adorerei vedere Pamela Prati all'Eurovision adoro allora adesso parliamo di una coppia qui italiana Andrea Damante ed Elisa Visari i due stavano insieme ormai da anni no Andrea Damante lo conosciamo perché ha fatto il tronista è quello che ha scelto Giulia Delellis storia d'amore super travagliata super bella e poi ci sono lasciati sputtanato col libro mega vendita insomma lui poi dopo si è messo con Elisa fatto sta che le voci che li volevano un crisi anche nel loro punto di vista si facevano sempre più insistenti tant'è che persino il TG Com ci ha fatto un servizio dicendo ai follower di Andrea Damante Elisa Visari non sono sfuggiti alcuni indizi social che sembrano testimoniare la crisi in corso sono giorni ormai che i due non postano una foto o un video in coppia e neanche per la festa degli innamorati sono arrivate le usanti sì ciao sono arrivate le usuali dediche romantiche non solo non hanno celebrato in pubblico ma non lo hanno fatto nemmeno nel privato lei dopo qualche giorno a Parigi senza il compagno sarebbe passata da Milano giusto per un breve pit stop domenica sera prima di partire per Latina dove vive la sua famiglia ora tornata alla base posta foto da locali esclusivi milanesi e dal set di shooting ma del finanziato nemmeno l'ombra a darci la conferma è stato People People Gossip infatti scrive i rumors si trasformano in certezza la storia d'amore tra Elisa Visari e Andrea Damante è ufficialmente finita i due non sono più vicini ormai da settimane la possibilità di recupero del loro rapporto sembra essere molto distante vi piacevano insieme? ora io in questo momento che sto registrando quindi voi sapete che appena lo pubblicherò usciranno 800 milioni di rettifiche loro i due non hanno ancora detto niente ma c'è un altro gossip di queste ore che vorrebbe anche Giulia Delellis in crisi col fidanzato ora questa è una casualità molto casuale perché ci sono tornati ancora i fan della coppia Giulia e Andrea che li rivorrebbero insieme ennesimamente ma perché io mi domando a voi piacciono le storie d'amore toxic se ci hanno provato e un è andata e ci hanno riprovato e un è riandata ma perché rivolete due poveri cristi risoffrì insieme una cocornoni e l'altro sputtanato nei libri smettetela si sono fatti una vita fategli fare una vita di fuori di loro due basta e adesso finiamo questo spilling the tea con la notizia balenga che tanto balenga non è ma ne voglio approfittare per raccontarvela per dire una mia opinione personale Giulia Salemi in questi giorni oh che mi è successo mi è apparto Sam Smith ma perché scusate Giulia Salemi in questi giorni è sull'occhio del ciclone è diventata virale perché ha dichiarato in radio un fatto spiacevole che gli è successo con una parte del cast di Mare Fuori per chi non lo sapesse Mare Fuori è la serie evento di quest'anno e io ancora l'ho da guardare l'ho da iniziare tutti i miei amici sono fissati l'hanno guardata tutta quando usciamo non parlano d'altro quindi prometto che inizierò al più presto fatto sta che Giulia Salemi ha detto questo mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo ma anche meno pensano di salvare vite umane se la tirano in un modo ma con tutto il bene io non sopporto la gente che se la tira te la puoi tirare con 40 anni di carriera non con una serie alle spalle tranne le ragazze loro sono state carine dopo questa dichiarazione è successo il finimondo perché come vi ho già detto Mare Fuori è la serie tv del momento che ha tantissimi fan soprattutto ragazzi e ragazze di giovane età che quindi hanno iniziato ovviamente ad offendere Giulia dicendo ma anche meno ma chi ti credi d'essere te ma se ti sei rivolta a loro come ti sei rivolta a Selena Gomez che vi ricordate che ne abbiamo parlato che lei è andata da Selena e lei ha fatto bella de mamma io adoro io la amo Giulia ma come si fa fatto sta ragazzi che lei ha detto il cast maschile ma tra questo cast maschile ce n'è uno che si chiama Giacomo Giorgio che presta il volto a Ciro Ricci che risponde su Instagram con un Instagram stories in cui scrive cosa non si fa per un po' di hype rivolto ovviamente a quello che ha appena detto Giulia Salemi e a proposito di questo è apparsa anche una foto di Giulia con lui insieme in cui Giulia gli dà un bacino qui sulla guancia perché si dice che i due abbiano frequentato la stessa scuola di recitazione ditemi se sbaglio io ho letto così quindi vi riporto quello che ho letto ora a parte che quella foto non c'entra nulla con quello che ha detto Giulia secondo me perché se i due si conoscevano già perché hanno frequentato un corso insieme nulla ti dice che uno un po' cambia con il successo che c'entra ora vabbè fatto sta che le pressioni mediatiche sono state così forti che il giorno dopo Giulia ha chiesto scusa vabbè e vi dico lei ha detto quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice in quel momento ero una fan quindicenne e visto che mi sono sentita ignorata mi è rimasto lì io ho rosicato in quel momento però sono bravissimi e mi dispiace per la situazione che si è creata ora ragazzi ma vi pare che una povera crista in questo caso Giulia Delelli sì Giulia Salemi ma in generale se dice una cosa viene attaccata una mi ha detto oh siete dei ladri ha detto per mia esperienza personale l'ho visti un po' sì un po' che se la tiravano ora ci stanno le critiche ma offende una persona perché ha detto quello che pensa o comunque quello che ha provato sulla sua pelle come sua esperienza personale c'eravate voi? no non c'eravate voi nel senso c'era lei lei ha provato queste robe e l'ha detto magari senza malizia perché non si aspettava tutte ste critiche ma che avete portato che la gente ha portato una a ritrattare dicendo no ma è colpa mia perché sai forse mi aspettavo troppo no non si può più di nulla davvero in questo mondo scusate eh se io vado a un evento ok vado a un evento incontro ditemi non lo so chi è lo youtuber più famoso adesso in questo momento ma che ne so io vabbè fate conto che incontro favij boh ok anche se ormai i video ne fa altre favij è nel 2012 ok siamo nel 2012 io incontro favij incontro favij e il nostro incontro è un incontro che mi ha lasciato la mare un bocca ok perché magari ho visto che non mi ha cagato di pezza non ha voluto fare la foto con me o qualsiasi cosa e io lo vengo a raccontare perché io non posso raccontare questa cosa ma anzi devo dire no ma forse pretendevo troppo io lui è bravissimo se è stato una merda o niente contro favij è un nome così inventato non è successo nulla con lui non l'ho mai incontrato e anche perché scusate io mi ricordo Ale Amoroso Alessandra Amoroso l'avete fatta nera per un anno perché ha fatto un po' la str o nza con i fan eh e allora ma che vuol dire nel senso se c'è un video allora si is over party però se una racconta il proprio vissuto ah no siccome è famosa lei vuole far parlare di sé perché ha preso la serie più di successo del momento allora no andiamo di contro invece di dire fammi vedere forse è vero oppure boh ci saranno altre testimonianze non lo so ragazzi fatto sta che cioè può aver ragione come no a me non me ne frega nulla se uno se la tira oppure no non è che sono mie amici però se questa è l'esperienza di lei ma perché deve chiedere scusa magari lei ha percepito quello magari con altri 80.000 persone loro sono super carini super disponibili magari l'ha beccata in un momento in cui giravano i cojones lei ha raccontato sì ma perché bisogna andare contro vabbè comunque lasciamo perdere questo è quello che è successo fatemi sapere voi qua sotto te ne avete commento cosa ne pensate e per oggi ragazzi e ragazze spielo un tea with me Cristiano Cervini termina qua io non vedo l'ora di ne farne già un altro perché dico se intanto ne escono 2000 al giorno adoro e niente se vi ho fatto compagnia mettete mi piace a questo video e sostenetemi iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao 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 ciao